Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi se volete arrivare qui al Sacro Albero link in descrizione e il video come arrivarci in 5 minuti quindi in questo 76esimo video su Elder Ring che aggiungerò alla mia playlist vi spiego come trovare questa cenere dell'inviato oracolo non sono altro che delle truppe composte da 4 incappucciati dei tizi con una trombetta quelli che avete visto poco fa quindi dirigetevi qui sull'albero su questa strada quindi proseguite da questa parte mi raccomando fate attenzione a questo che veramente rompe veramente i coglioni che sono morto un sacco di volte perché questo non si sta un attimo fermo con la sua tromba quindi io cosa vi consiglio? di ignorarlo proseguendo sempre da questa parte a destra sempre da questa parte sempre dritto dritto ignorateli tutti ignorateli non perdete tempo con questi tizi sempre più avanti è proprio davanti a... oddio poca vita c'ho eccola qua adesso andremo a provarla ecco ti pareva ti pareva eccoli la allora sono di livello 1 ma sono abbastanza forti se li potenzi quindi faccio divertire un attimo i miei bambini ecco che arriva il cavaliere è un attimo che mi diverto pure io con la coda se vi interessa anche questo incandesimo della coda ci ho fatto un tutorial lo troverete nella playlist di Ender Ring muori perfetto perfetto quindi ragazzi se questo video vi è stato utilissimo io vi consiglio di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina vi lasciate un like mi raccomando e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao